Rossini TV torna ad accendere le telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori. Oggi ci troviamo a Borgo Santa Maria in via Monterosa dove c'è un parco comunale, un'area verde dedicata al tempo libero, dedicata ai bambini, ma un'area verde sempre meno accessibile. Perché? Perché la vegetazione, come potete vedere, cresce davvero indisturbata. Guardate dove ci troviamo, avvolti praticamente da una giungla urbana. La vegetazione cresce rigogliosa, cresce, come potete notare, più alta della recinzione che delimita dalla strada e dunque questo rende tutto poco fruibile in questa situazione. La vegetazione che avvolge il cartello che vi abbiamo appena mostrato non è soltanto un caso isolato. L'erba, i fiori, gli arbusti crescono alti e indisturbati in ogni angolo di questa area verde che è anche piuttosto estesa. Dunque è un problema diffuso, è una dimenticanza trasversale a tutta questa zona. È anche periodo di potature, di tosature d'erba in questa fase di primavera avanzata. Si sta lavorando in questo senso sulle aree più centrali e turistiche della città. Questa è periferia, ma non per questo va dimenticata. Un parco di questo genere può essere un luogo d'aggregazione assolutamente più sfruttabile di come in questo momento viene penalizzato da questa situazione. Vi ricordiamo come sempre il numero di WhatsApp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 per denunciare a Rossini TV altre situazioni come questa.